Il progetto della Valle delle Basiliche è un po' il fiore all'occhiello dell'attività di Promo Serio, le tre basiliche importanti coinvolte, che ciascuna ha tesori inestimabili, sono Alzano, Gandino e Clusone. La nuova brochure illustra e propone questo percorso che già è un percorso consolidato, che ha successo da tempo. Questo percorso della Valle delle Basiliche rientra in un discorso molto più ampio che riguarda Promo Serio, che è la valorizzazione di quello che c'è sul territorio messo in rete. Quindi cito per esempio gli oltre 60 musei che fanno capo a Promo Serio, tra l'altro con spesso, in tanti casi, offerte didattiche importanti. Saremo presenti al fine settimana a Lilliput con i nostri musei e con le loro offerte didattiche. Quindi in questo senso noi lavoriamo per fare rete e l'idea amante, come dicevo, è il percorso della Valle delle Basiliche. Non ultimo, un nostro impegno attuale viene dalla collaborazione con l'Accademia Carrara e con la sua direttrice, di Maria Cristina Rodeschini, l'idea è quella proprio di promuovere la Carrara in Val Seriana e viceversa portare la Carrara in Val Seriana. Quindi stiamo pensando, partendo da un progetto a cui stiamo lavorando, che riguarda un'opera del Moroni, compiato su Cristo morto, che viene da una chiesa soppressa di Gandino. L'idea è quella di riuscire a riportarla e contemporaneamente valorizzare le tante opere del Moroni, che partendo dalla bassa valle, quindi da Ranica, fino ad arrivare a Fino del Monte, si trovano nella chiesa della nostra valle. Un'occasione anche per conoscere meglio il Moroni e tutto quello che c'è dietro a ciascuna opera. Esattamente, quindi anche un po' di storia dei rapporti del Moroni con la sua valle, perché il Moroni è di Albino e ritorna ad Albino a lavorare per una bella fetta della sua carriera artistica. Quindi storia, devozione, arte, si mettono insieme in un progetto di questo genere.